Il primo tempo sicuramente è stato sofferto, ma io ho detto ai ragazzi che poche settimane fa questa squadra stava a due punti sotto al trentesimo a Chieti, quindi sappiamo che Chieti non è un campo facile. Quindi è una squadra che comunque va presa con le pinze, comunque è fatta da ragazzi molto talentuosi, giovani, ma che comunque sanno giocare al palacanestro. Quindi nel momento in cui abbassi la tua attenzione e la concentrazione, poi possono uscire dei primi tempi brutti come uscito quello di oggi. Più arrabbiato per il primo tempo con l'approccio soft o per la grandissima reazione nel terzo quarto con un inequivocabile parziale di 18-0? No, non sono esperto come allenatore, ma sono abbastanza esperto anche avendo giocato praticamente trent'anni. Non mi voglio arrabbiare per una partita del genere, perché so che sono cose che possono capitare all'interno di una stagione, durante le feste, anche se noi devo dire che i ragazzi hanno lavorato molto meglio di quello che hanno dimostrato in mezzo al campo, quindi magari con una squadra che arriva che ha quattro punti, ma che comunque avevamo detto che era una squadra che sarebbe giocata su tutti i campi. Però quello che mi dispiace è che non voglio che accada più, che dopo nel momento in cui magari si abbassa la concentrazione e la tensione, dopo magari escono fuori problematiche che non esistono all'interno di un gruppo, perché non esistono problematiche. Siamo a nove vittorie consecutive, siamo secondi in classifica, forse saremmo primi in tutti i gironi di questa Serie B, a parte nel nostro in cui c'è una squadra che è a punteggio pieno, quindi io quello che dico alla squadra è che posso anche non arrabbiarmi, mi posso arrabbiare soltanto funzionalmente per vincere la partita, però dopo non devono uscire altre stupidaggini da una partita come questa. L'ultima, sotto l'albero la qualificazione è la finalette di Coppa Italia, per il brindisi di fine anno il nono successo di fila, nella calza della Befana cosa vuole coach Raiola? La calza della Befana voglio continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, vorrei continuare ad allungare il più possibile questa striscia, è proprio la Befana, giochiamo a Bisceglia che però sappiamo benissimo che è un campo molto difficile, poi abbiamo un'altra trasferta a Nardò, poi abbiamo le famose tre partite consecutive in casa che all'andata l'abbiamo fatta fuori casa, quindi ricomincia un bel trittico di partite, ma diciamo ricomincia il giornale di ritorno che sappiamo che non è facile, noi dobbiamo confermarci e se l'arriva di secondi è stato un traguardo incredibile secondo me, non per come fosse partita la stagione, perché comunque due sconfitte, ci può stare anche la sconfitta di Chiedi Sansevero, però pensare di fare nove vittorie consecutive dove quelle due sconfitte, comunque con un calendario anche in cui abbiamo avuto otto partite, avremo con l'ultima giocatura a Bisceglia, otto partite fuori casa e sei in casa, di sicuro non era facile, ma è merito dei ragazzi che hanno veramente lavorato tantissimo in questi quattro mesi, quindi però dobbiamo continuare a lavorare e cercare di rilungare la striscia il più possibile. Grazie.